Presidente, è un evento che ci si augura possa catalizzare l'attenzione e la partecipazione dei sassolesi perché ha un punto, oltre allo spettacolo, ha un punto favorevole, cioè la beneficenza. Certamente, sarà un nostro impegno portare la banda dell'esercito al Teazzo Carani che proporrà un repertorio molto bello, molto interessante e confidiamo nella partecipazione di tutti i sassolesi. È un evento benefico, culturale, ma con uno scopo specifico che è quello di comprare un macchinario da donare all'ospedale di Sassuolo attraverso l'associazione per vincere domani. Quindi noi come Rotary siamo sempre impegnati in questo senso, nella cultura e nel servizio. Rampolini, un'idea che ti è venuta in testa da tempo è che quando le cose si sono messe a posto con il teatro a disposizione, adesso mancano pochi giorni e diventerà realtà. Sì, per me è la realizzazione di un sogno il fatto di poter portare a Sassuolo la banda dell'esercito italiano. È un orgoglio nazionale, è qualcosa di veramente emozionante perché ho avuto già l'onore di presentare un concerto loro a Carpi e mi sono ulteriormente innamorata di questi artisti spettacolari. Quindi sono molto felice e non vedo l'ora che arrivi il quattro perché sarà una serata bellissima. E benefica? Soprattutto benefica perché la banda dell'esercito si esibisce gratuitamente come anche gli artisti che presenzeranno e la finalità è benefica, ci sarà appunto una donazione all'associazione Per vincere domani che è un'associazione importantissima nel nostro territorio che va sostenuta e quindi noi ci impegniamo tutti quanti insieme a Rotary, insieme appunto agli artisti, insieme alla banda dell'esercito per portare avanti questa iniziativa fondamentale perché il volontariato in Italia è veramente molto importante. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito e che la donazione si farà in forma proprio volontaria. Assolutamente, il concerto è gratuito, quindi l'ingresso è gratuito per cui diciamo che lasciamo al buon cuore dei partecipanti il riconoscimento, la donazione che vorranno fare appunto che andrà all'associazione Per vincere domani per un progetto molto importante, si parla di macchinari per problematiche poi parleranno sicuramente loro nel dettaglio ma è importante. Quindi sono sicura che i sassolesi e non solo i sassolesi saranno molto generosi.